Le strade di Martino Gianni e del quartiere di Porta Santo Spirito si separano dopo 9 vittorie su 15 giostre corse con i gialloblu in veste di allenatore e dopo aver lanciato la coppia dei ragazzi terribili, scorteci e cicerchia. Per problemi di salute, è stato detto tanto però l'unico vero motivo è che effettivamente devo fare degli interventi, ho bisogno di dedicare parecchio tempo a me stessa, rimettermi in salute, non avendo la possibilità di fare questo e quindi non dando una garanzia della mia presenza continua al campo ho preferito ritirarmi. Il quartiere ha tentato di blindare il suo preparatore con un rinnovo triennale del contratto ma senza esito. Fino all'ultimo hanno sperato, ci hanno provato anche in tutte le maniere, anche ti si aspetta anche a giugno non importa ma non rientra nel mio carattere, io se riesco a fare le cose le voglio fare per bene. Secondo me per quello che avevo in testa bisognava iniziare subito a fare un determinato tipo di lavoro non potendolo fare, preferisco dirgli guardate, trovate chi mi sostituisce perché io devo pensare a me stesso. Non ho la testa e la voglia di pensare al Saracino. Il quartiere sa come deve lavorare, per sei anni abbiamo lavorato insieme sempre cercando di eliminare quelli che potevano essere le problematiche perché magari tu arrivassi in piazza e non eri pronto, quindi io credo che non ci sia nessun tipo di problema. L'albilità di Elia e di Gian Maria nasce dal fatto che sono bravi veramente loro. Poi io magari posso aver dato un po' di esperienza ma il più ce l'hanno messo loro quindi secondo me non cambia niente. Escluso al momento il passaggio agli altri quartieri. Se avessi voluto proseguire un rapporto l'avrei proseguito con santo spirito quindi non c'era nessun motivo perché io mi allontanassi da questo quartiere. L'unico motivo per cui mi ha fatto prendere questa decisione è solamente che la salute. Rivedremo in piazza ai stessi in che modo? Ma non lo so, su questo non lo so. Credo che se riesco a rimettermi per bene ho una gran voglia di andare a pescare che quindi sarà difficilmente mi rivedrete in piazza.